Buonasera a tutti. Partiamo da Washington. Ieri a 87 anni è morto il miliardario Sheldon Adelson, magnate dei casinò di Las Vegas. Tra i più grandi finanziatori del partito repubblicano americano, grande finanziatore di Donald Trump e grande finanziatore e sostenitore dello Stato di Israele. Con lui è la fine di un'epoca e guarda caso accade proprio mentre la Guardia Civile entra a Capitol Hill con Washington dichiarata in stato di emergenza da Donald Trump in attesa del giuramento di Biden che avverrà il 20 gennaio prossimo. La battaglia tra fazioni di Deep State si sposta nuovamente nei social network ma non finisce qui. Donald Trump e Elon Musk sono oramai dichiaratamente interessati all'acquisto di Gab e Signal. Che attenzione, sono due app di messaggistica che ostacolerebbero i padroni della Silicon Valley. Ma dall'altra parte anche Telegram che avendo proprietà russa non avrà certo vita facile con l'arrivo del duo Biden e Kamala Harris. E ora guardiamo qui a Roma. In Vaticano Papa Bergoglio si è vaccinato e a Roma quel che resta del governo Conte Bis prolunga al 30 di aprile lo stato di emergenza. Mentre stiamo adesso registrando, Renzi crea la crisi di governo. Con la scusa di vedere il mess oramai ovunque, lotta intestinamente per il controllo degli 007 che comunque di italiano hanno sempre avuto molto poco perché ricevono ed eseguono e continuano ad eseguire ordini che provengono da una parte di Washington che oramai non è più ben precisata. Sarà comunque una crisi parlamentarizzata. Conte, sostenuto dal Vaticano, è sicuro e si esprime così. Dopo di me ci sarà il diluvio. Non cederà facilmente ma è consapevole che gli equilibri stanno fortemente cambiando. Negli Stati Uniti come in Italia, un paese in cui uno come Renzi può ancora rimescolare le carte. Altri compromessi quindi ci attendono prima di arrivare al grande reset. Ma questa volta però siamo consapevoli che Roma resta fortemente agganciata e salda al deep state washingtoniano. Attenzione, di nuovo attenzione, non si chiama più consensus washingtoniano ma caos washingtoniano. E per il momento buona serata e buona visione a tutti. Per domani avremo sicuramente ulteriori dettagli e informazioni in più da darvi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata chiara. Nonostante la campagna di vaccinazione anti-covid sia iniziata, l'immunità di gregge rimane poco più di un miraggio. Secondo Suma Swaminathan, ricercatrice capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, bisognerà continuare a rispettare le misure di prevenzione ancora a lungo. Nel 2021 non raggiungeremo alcun livello di immunità della popolazione, ha sentenziato l'esperta. Ma cosa si intende esattamente quando si parla di immunità di gregge? Se ci affidiamo alla definizione ufficiale estilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si tratta di un concetto che cambia nel tempo. Fino a tre mesi fa, infatti, si considerava che l'immunità di gregge potesse essere raggiunta sia attraverso la naturale esposizione al virus, sia attraverso la vaccinazione. A partire dal 13 di novembre scorso, invece, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato le carte in tavola e ha stabilito che l'immunità di gregge è ottenibile solo ed esclusivamente attraverso la vaccinazione. La nuova definizione, che è passata inosservata sui media mainstream, ha modificato uno dei concetti fondamentali dell'immunologia. Stabilendo che l'immunità non è più raggiungibile attraverso la naturale esposizione al virus, l'OMS ha praticamente riscritto la storia della medicina, gettando nel dimenticatoio tutte le evidenze raccolte da decenni di ricerche epidemiologiche. E' quindi lecito chiedersi se questa nuova definizione risponda a interessi politici più che scientifici, dato che di fatto spiana la strada alla vaccinazione universale, anche per coloro che sono già stati contagiati dal Covid in maniera naturale. Il 27 dicembre in Italia, tra il tripudio generale, è iniziato con molto entusiasmo il Vaccine Day, ovvero l'inizio ufficiale della vaccinazione contro il Covid-19. Neppure 20 giorni fa, ed ecco che gli ottimi risultati raggiunti in termini di copertura sulla popolazione, essendo l'Italia prima in Europa per la somministrazione del medicinale, vengono coperti dal primo grave scandalo. Uno dei requisiti fondamentali da subito decisi è stata la priorità alle fasce più deboli e più a rischio della popolazione. In particolar modo gli anziani ricoverati nell'RSA e gli operatori sanitari in prima linea negli ospedali, una visione di buonsenso per ridurre la pressione negli ospedali, ma che purtroppo ha impattato con la realtà Italia, con cui spesso si è costretti a fare i conti, ovvero con i cosiddetti furbetti. Amici degli amici, qualche fortunato dell'ultimo minuto, personale amministrativo delle ASL, in pratica una nutrita schiera di persone che non rientrava nei parametri già stabiliti, con il risultato che a rimettrici sono stati proprio gli ospiti delle strutture per anziani. L'ultimo aggiornamento in merito lascia spazio a pochi equivoci. Su un totale di 701.623 vaccinati sono presenti 558.155 operatori sanitari e sociosanitari, 47.488 ospiti delle strutture residenziali e ben 95.980 soggetti classificati personale non sanitario. Se il quadro generale lascia perplessi, i numeri a livello regionale, di cui ne elenchiamo alcuni, sono ancora più incredibili. Nelle Marche, ad esempio, hanno ricevuto il vaccino appena 145 ospiti dell'RSA e ben 1.834 non sanitari. Nel Lazio, su 66.773 vaccinati, 6.019 sono non sanitari e 4.356 gli anziani. In Calabria, invece, 10.940 sono i vaccinati, di cui 1.190 i non sanitari e 0 RSA. Un quadro desolante, alla luce del quale i carabinieri del NAS hanno iniziato ad acquisire gli elementi dei vaccinandi in diverse regioni e stanno valutando eventuali abusi e la configurazione di ipotesi di reato. Fino a pochi mesi fa, parlare di passaporto vaccinale evocava per lo più scenari distopici. La realtà, però, sta dimostrando di essere sempre più veloce a superare la fantasia. La Danimarca ha già deciso di sviluppare un certificato digitale che attesti l'avvenuta vaccinazione dei cittadini. Così sarà possibile per loro viaggiare senza problemi, spiegano le autorità sanitarie del paese scandinavo, annunciando che questo documento inizierà ad essere rilasciato nelle prossime settimane. Altri paesi, come la Grecia, chiedono invece un unico passaporto vaccinale valido in tutta l'Unione Europea. È urgente adottare un certificato comune per tutti i paesi, ha chiesto il primo ministro, Chiaracos Mitsukatis, in una lettera indirizzata la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Dopo le iniziative di alcune aziende private, come la compagniera Quantas, che chiederà il vaccino ai suoi passeggeri, e le uscite di qualche politico in ordine sparso, come il Presidente della Regione Campania, De Luca, che ha annunciato un patentino Covid, sono adesso i governi nazionali a entrare nel merito della questione. E questo, nonostante siano le stesse autorità sanitarie, a spiegare che essere vaccinati non significa non essere contagiosi. Prosegue inesorabile l'oscuramento dei profili social da parte delle due principali piattaforme, generando un autentico clima di accaccia alle streghe. Facebook ha sospeso un account gestito da Press TV, uno dei principali media iraniani in lingua inglese. Il network ha dichiarato che non è stata fornita alcuna spiegazione prima della cancellazione e che Facebook non poteva fornire ulteriori informazioni per motivi di sicurezza e protezione. La mossa di Facebook è arrivata dopo che Press TV aveva segnalato come infondate le accuse contro Teheran da parte del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, secondo cui Al-Qaeda avrebbe stabilito una nuova base di servizio nella Repubblica Islamica. In seguito la pagina, con oltre 4 milioni di followers, è stata ripristinata. Twitter invece ha sospeso oltre 70 mila account, principalmente quelli che condividono i contenuti di Canon, il movimento fondato su una teoria del complotto secondo cui Donald Trump starebbe combattendo una guerra segreta contro una malvagia elite di potere. Per Twitter la rimozione dei profili, compresi quelli di Trump, del suo avvocato della campagna elettorale Sidney Powell e dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, è un passo necessario per combattere comportamenti che possono potenzialmente portare a danni offline. Intanto molti utenti, anche per colpa di norme di sicurezza e privacy poco trasparenti, stanno migrando verso nuove piattaforme social. Telegram ha da poco raggiunto i 500 milioni di utenti attivi. Il monopolio di Zuckerberg e dell'uccellino cinguettante potrebbe dunque essere giunto al capolinea, ma la domanda da porsi ora è, per lasciare il posto a chi? E soprattutto, chi deciderà le prossime tappe? L'ondata di censure che si è abbattuta sui social negli ultimi giorni non poteva certo passare inosservata e il fatto che il presidente degli Stati Uniti sia stato zittito da piattaforme private oramai fuori controllo ha generato un aspro dibattito. Le posizioni principali sul tema sembrano essere tre. Alcuni sono contro ogni forma di censura e ricollegano quanto accaduto ai roghi di libri del Medioevo. Altri affermano che Facebook, Twitter e gli altri social, in quanto piattaforme private, hanno il diritto di fare ciò che vogliono, anche a costo di violare i diritti costituzionali dei cittadini. Ma è forse la terza tesi quella che suscita maggiore apprezzione. Alcuni europarlamentari, infatti, sostengono che la censura sia giusta, ma che non possa essere lasciata nelle mani dei big tech. Per Raphael Glucksmann, ad esempio, è necessario un supervisore indipendente. Per Pierfrancesco Maiorino del PD la soluzione consisterebbe nel creare una legislazione globale che aiuti a contrastare l'odio sul web. Due domande sorgono spontanee. Perché Maiorino ha usato l'espressione globale invece di una più generica come norme condivise? E perché Glucksmann, che in quanto europarlamentare è stato eletto dal popolo per rappresentarne gli interessi, vuole cedere il controllo di un tema importante come la censura ad un soggetto terzo indipendente a parole ma difficilmente nei fatti? Perché dunque non lasciare che occuparsi di questi argomenti siano i parlamenti nazionali nel rispetto delle sensibilità specifiche dei singoli popoli? In un articolo pubblicato su Scientific Reports, il ricercatore Michel Kosinski afferma che gli algoritmi di riconoscimento facciale sarebbero in grado di identificare l'orientamento politico delle persone, distinguendo fra liberali e conservatori con una percentuale di successo che toccherebbe per ora il 72%. Dalla ricerca di Kosinski, che cita numerosi altri studi, si evince come la massiccia diffusione di sistemi di videosorveglianza al riconoscimento facciale, combinata ad algoritmi sempre più evoluti, potrebbe presto permettere di schedare un individuo usando solo qualche fotografia. Tanto basterebbe, infatti, per estrapolarne i dati relativi all'età, all'etnia, alla personalità, alle preferenze sessuali e politiche. In un mondo senza privacy, dove ogni nostro passo è spiato e i governi sanno tutto di noi, in un mondo in cui ogni giorno viene inventata una nuova emergenza per giustificare misure sempre più liberticide e antidemocratiche, non è difficile immaginare che uso verrebbe fatto di tale tecnologia. I potenziali dissidenti politici potrebbero essere identificati prima ancora di aver aperto bocca, o forse prima ancora di essersi resi conto della propria ostilità verso il sistema di turno. Il cittadino del futuro potrà dunque essere arrestato per qualunque cosa che non ha ancora fatto, che non ha ancora detto, che non ha ancora neanche pensato, proprio come nel film Minority Report, e tutto questo gli sembrerà normale. Comunque sia, il mondo nuovo avanza. Il Bitcoin oscilla. A partire dal 10 gennaio la direzione della criptovaluta per eccellenza ha iniziato a puntare verso il basso, fino a toccare una perdita del 17% in un solo giorno. Ethereum, invece, è scesa di oltre il 20% del suo valore. Il repentino crollo ha confermato che a prevalere sulle criptovalute sono stati ancora una volta i movimenti speculativi, e non certo un rinnovato interesse nella moneta come strumento di pagamento. Lo dimostra il fatto che nel momento in cui scriviamo, Bitcoin, ha già recuperato parte del crollo, benché ancora in calo del 14,49% nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo anno pandemico le criptovalute hanno quintuplicato il loro valore, tanto che gli analisti finanziari iniziano a parlare di bene rifugio in sostituzione dell'oro. Ma più che una corsa all'oro potremmo essere dinanzi a una staffetta verso la smaterializzazione del denaro contante, meccanismo di un grande reset che ci renderebbe definitivamente succubi dei cosiddetti padroni universali. A vent'anni dalla fine della guerra dei Balcani, lo studio legale Ali Exic della città di Nice, nel sud della Serbia, ha annunciato cinque cause penali contro la Nato. L'accusa riguarda l'uso ampiamente testimoniato e documentato dell'uranio impoverito nel paese nel 1999 da parte della coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti d'America. Sottoprodotto del procedimento di arricchimento dell'uranio, oltre ad essere utilizzato per scopi civili, ne si fa largo uso anche in campo militare, in particolare per munizioni anticarro e per potenziare le corazze di alcuni sistemi d'arma. Ampiamente denunciato da padre Jean-Marie Benjamin e nonostante sia classificato di basso livello radioattivo, l'uranio impoverito ha effetti molto gravi su ambiente e persone, effetti che possono portare alla formazione di tumori e malattie del sangue. Secondo l'emittente RTS, le prove legali nei prossimi giorni saranno sottoposte al vaglio di diversi tribunali serbi. Riguardano persone che, a seguito dell'esposizione all'uranio impoverito, contrassero gravi e acuti linfomi di vario genere. L'ufficio legale Ali Exic ha tenuto a far presente che la preparazione di tali azioni legali ha visto la partecipazione attiva anche dell'avvocato italiano Angelo Fiore Tartaglia, patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione e tra i migliori esperti di diritto militare. Il legale, molto attivo nella tutela dei militari che si sono ammalati a causa dell'esposizione all'uranio impoverito, è riuscito a ottenere in Italia numerosi successi e ben 181 sentenze definitive in favore del personale militare impiegato in operazioni definite di mantenimento della pace in Kosovo. Nella giornata di lunedì gli Stati Uniti d'America hanno inserito nuovamente Cuba nella lista degli sponsor dei terroristi internazionali. Una decisione, quella dell'uscente amministrazione Trump, in profonda controtendenza rispetto alla presidenza Obama e che rischia di minare seriamente già in principio i rapporti tra il paese socialista e il nuovo inquilino della Casa Bianca Joe Biden. Cuba non possiede relazioni idilliac con l'America dal 1959. Da quando Fidel Castro prese il potere e non è nuova in questa lista dei cattivi visto che vi era stata inserita per la prima volta nel 1982 durante la presidenza Reagan. Venne rimossa nel 2015 da Barack Obama nella speranza di migliorare le difficili relazioni economiche e diplomatiche. Il duro provvedimento stabilisce diversi freni a chiunque intenda investire nell'isola con il rischio concreto che un qualunque avventuriero potrebbe incorrere in accuse formali e pesanti degli stessi Stati Uniti. Inoltre sotto il suo mandato il Tycoon ha vietato viaggi e crocieri nell'isola limitando fortemente anche i voli diretti. La misura che potrebbe anche essere ritirata ma necessiterebbe di alcuni mesi e comunque sarebbe necessaria una revisione formale della neoamministrazione Biden con il Dipartimento di Stato di Antony Blinken a dimostrare il non collegamento dell'Havana con atti di terrorismo negli ultimi sei mesi. Nonostante nel tempo tra mille difficoltà i rapporti si siano un minimo normalizzati, restano le restrizioni presenti ormai da cinque decenni e che per essere ritirate richiederebbero anch'esse un atto formale del congresso. Cuba si unisce così a un gruppo ristretto composto solo da Siria, Iran e Corea del Nord, nazioni più ampiamente condannate dagli americani per aver fomentato più volte il terrorismo internazionale. La presidente neoeletta moldava Maya Sandu ha tenuto la prima visita ufficiale all'estero, a Kiev. Il suo predecessore Igor Dodon non aveva toccato il suolo ucraino nei quattro anni di presidenza. Ora Sandu e Zelensky hanno concordato che le nuove relazioni bilaterali tra i due paesi dovranno essere ampliate. Per meglio raggiungere l'obiettivo si è creato un consiglio permanente dei presidenti dei due paesi anche ai fini di sviluppare la cooperazione nel settore energetico. Le parti hanno però anche deciso di negoziare su questioni controverse, tra cui la demarcazione del confine e il funzionamento della centrale idroelettrica Un gruppo di scienziati ugandesi sta indagando sulla misteriosa morte di centinaia di pesci trovati sulla spiaggia di Entebbe lungo la riva del lago Vittoria. Joyce Nieko, direttrice ad interim della pesca presso il Ministero dell'Agricoltura, ha dichiarato telefonicamente all'Agenzia Nuova Cina che la morte potrebbe essere la conseguenza di un drastico calo dei livelli di ossigeno nelle acque del lago, causato dalle recenti inondazioni. I forti venti avrebbero contribuito all'affondamento di erbacce di giacinto d'acqua e alla loro decomposizione, nonché al ribaltamento del lago, fenomeno che causa l'innalzamento dell'acqua dei fondali, con bassi livelli di ossigeno, verso quella degli strati superiori. Il Ministero sta indagando se morti simili si siano verificate sulle rive di altri laghi e fiumi del paese, ed ha dichiarato che l'unica specie colpita sembrerebbe essere il pesce persico del Nilo, alimento base di molte tribù ugandesi. Si ritiene, infatti, che questa specie ittica sia particolarmente sensibile ai bassi livelli di ossigeno. Sebbene le indagini preliminari abbiano escluso l'avellenamento del pesce da parte di pescatori. Già nel 2017 alcuni scienziati avevano denunciato che il lago Vittoria è minacciato di morte, puntando il dito contro la pesca intensiva.